La scelta per la sede di Expo 2030 alle battute finali e saranno tre le candidature prese in considerazione per l'elezione del paese ospitante l'esposizione universale. Si tratta della Repubblica di Corea con Busa, l'Italia con Roma e l'Arabia Saudita con Riad. La decisione verrà presa nella riunione del BIE prevista per novembre. Durante la 173esima Assemblea Generale dell'organizzazione gli stati membri voteranno a scrutinio segreto ed eleggeranno il paese ospitante Expo 2030 secondo la regola uno Stato un voto.